zoom in spazio di approfondimento di tv questa volta vi fa fare un viaggio, vi porta a Samarkand che potrebbe anche essere una città, la terza, credo se non ricordo male per dimensione dell'Uzbekistan nella mitica strada per la seta ma è anche il simbolo della conoscenza la conoscenza e soprattutto sapere apprezzare la diversità non fermarsi e non crearsi dei barriere forse un po' il simbolo che poi, la città simbolo che ha fatto un po' da musa ispiratrice al tuo lavoro, Luca Maggitti, collega giornalista che proprio adesso fresco di stampa ci ha portato Samarkand Sì, quando ho pensato al titolo ho pensato, come dici tu sia alla città dell'Uzbekistan sulla via della seta ma anche al programma di Santoro che commentò quegli anni tragici della prima repubblica agonizzante delle stragi ma anche all'LP di Roberto Vecchioni della fine degli anni 70 era un nome che, come dici tu, per me rappresentava sia una città ma più che altro un viaggio un viaggio che si può fare anche con i ricordi e non solo spostandosi fisicamente oggi più che mai Soprattutto è una città dove non ci si ferma e soprattutto dove si prosegue il viaggio non essere mai soddisfatti delle mete che si raggiungono Sì, credo che sia anche il senso del motivo che ha generato questo libro cioè voler tesaurizzare le esperienze fatte con il premio Borsellino, con il premio Fava e con altri incontri culturali cioè dire facciamo cultura da 20 anni in provincia sperando in un'Italia migliore sappiamo che il viaggio non ha fine e comunque continuiamo a camminare Entriamo in questo libro ogni tanto la nostra regia di Gilberto Marinozzi ci mostra la copertina assolutamente bella poi ci sono delle immagini che sono un po' simbolo una sintesi ma sono migliaia le facce che sono dentro questo libro che non è solamente fotografie, immagini ma sono tante storie raccontate attraverso delle interviste Beh innanzitutto grazie a Mimmo Cusano, Roberto Clementoni, Marco Rapone e tutti gli altri amici soprattutto Mimmo Cusano per le foto perché come dici tu sono 200, credo 294 foto e questo è importante ma ci sono anche poi, mi permetto di dire avendo io curato la parte testuale oltre all'impaginato ci sono anche circa 30 storie di quelli che io chiamo i protagonisti dell'Italia migliore cioè dal giudice sotto scorta che lotta contro l'andrangheta al prete di frontiera che vuole togliere i ragazzi dalla strada e non farli cadere in mano alle mafie all'attivista dei diritti civili al giornalista impegnato quindi ci sono delle storie io ho raccolto le interviste che ho fatto loro dal 2006 ad oggi e ho dovuto ovviamente operare una scelta per ragioni editoriali 120 erano le pagine e ovviamente ringrazio l'editore Carsa che ha creduto in questo progetto e anche gli amici della Tipolito Rosetana che poi lo hanno stampato tenendo davvero tutti al minimo sindacale il budget e quindi permettendoci di fare questa tiratura per il premio speriamo sia un libro gradito Premio Borsellino siamo alla 17esima edizione in concomitanza con questo evento 20 anni di premio in concomitanza con questo evento c'è la presentazione una serie di eventi che accompagneranno tanti giovani fino al 10 novembre se non sbalde non solamente giovani sì esattamente dal 25 ottobre al 10 novembre per quest'anno che è il ventesimo purtroppo dal sacrificio umano e dico anche morale di Paolo Borsellino 17 edizioni del premio e ripeto ci sembrava giusto a me e a Leonodari che ha curato poi la prefazione del libro fare questo ricordo che vuole essere proprio ripeto uno strumento per dimostrare che qui in 20 anni con grande fatica e con davvero eseguità di mezzi si è potuto fare qualcosa come la copertina di mostra di livello almeno nazionale se non internazionale questo grazie a tutti quelli che ci hanno creduto e sono venuti a trovarci tu sei un po' l'Omero delle gesta del Paolo Borsellino come premio ed anche di Leonodari come anima di questo premio beh Leo ha avuto il merito di crearlo io sono insomma un amico della prima ora è vero ma siamo sinceri i meriti sono di Leo per il Borsellino e quindi è giusto che siano i suoi io ho voluto appunto quando gli ho parlato di questo progetto ho detto io voglio la tua autorizzazione morale perché il premio l'hai creato tu e voglio che tu mi curi la prefazione lui ovviamente mi ha abbracciato e ho detto facciamo questo libro ed eccoci qua insomma ecco l'hai cominciato a presentare che approccio ha con il pubblico e con le persone che incontri? beh devo dire insomma sono un po' troppo di parte sono venuti tutti amici e ci hanno abbracciato e ci hanno un po' coccolato quindi rischiamo di farci un'idea sbagliata io vorrei tanto che insomma adesso questi giorni abbastanza tristi che ormai durano da troppi anni in cui il disimpegno è elevato a morale in cui insomma gli investitori pubblicitari decidono la qualità dell'80% di quello che va in televisione in cui nulla sembra più scuotere le coscienze queste 30 storie di persone importanti ripeto io sono solo l'umile intervistatore riuscissero a far riflettere perché qui c'è gente che ha chi ha dato la propria vita per la lotta alle mafie chi rischia la pelle per fare inchieste giornalistiche tutta gente ripeto molto meglio di me che ho raccolto in questo libro quindi insomma il primo ieri la prima presentazione è stata molto bella però insomma spero che piaccia e soprattutto che la gente legga queste pagine non per me ripeto ma per le risposte degli intervistati allora invece parlaci proprio delle interviste come per come le sezionate perché le sezionate e dopo andiamo oltre brevemente ho provato a fare un escursus cronologico dal 2006 al 2012 delle persone che più mi avevano colpito con le quali avevo avuto un discorso intanto la regia ci sta montando regalando tante immagini queste sono molte relative al lavoro di Leo qui per esempio sono con Di Lello che è uno dei magistrati del pull antimafia abruzzese di origine di Villa Santa Maria che ho intervistato ma ecco dicevo ho provato a fare una cernita anche grazie a TV6 non lo dico perché siamo qui perché il lavoro d'archivio è fatto se tu hai fatto le interviste le pubblicate come nel mio caso sul mio giornale online roseto.com le hai ma molte sono state pubblicate con degli approfondimenti specifici da TV6 quindi grazie a YouTube e alla tecnologia è stato possibile risbobbinare le interviste editarle insomma rimetterle anche insomma fare un'opera di ottimizzazione per il cartaceo perché tu mi insegni che spesso quando uno risponde in video poi se lo traduci sul cartaceo un minimo un minimo deve essere rimesso però ho cercato davvero di togliere meno possibile perché per restituire anche la purezza di quei momenti spesso a margine di un pranzo l'unico che non ho potuto intervistare fra quelli in copertina è Don Luigi Ciotti e ho messo il mio intervento un piccolo pizzico di narcisismo perché proprio perché l'attacchinaggio dei manifesti l'organizzazione la logistica il pranzo non fu possibile io non ebbi tempo di intervistarlo per tutti gli altri ho avuto l'onore di intervistarli e per Roberto Saviano che per motivi di sicurezza non fu possibile intervistare c'è il suo intervento integrale del premio Borsellino 2010 Giancarlo Caselli Di Lello Ciotti l'hai già ricordato la Capacchione Abbate Vulpio Ruotolo Laricata Fava Peppino In Claro tanti nomi tanti nomi importanti che non sono assolutamente indifferenti ma quale tra questi nomi queste parole che hai poi trascritto non sono indifferenti per te chi ti ha colpito nel cuore? Tutti quelli che ci sono mi hanno colpito ovviamente una scelta va fatta e sceglierei quello che insomma spesso una definizione si usa nello sport forse questi toni toni truanti nello sport forse sono un po' sprecati ma quello che mi sembra proprio l'ombre verticale per eccellenza è Nicola Gratteri il sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia a Reggio Calabria l'uomo che dall'89 vive sotto scorta e che dice delle parole di una chiarezza e di una forza assolutamente belle libere arricchenti ti inorgogliscono dici ecco io sono concittadino ho lo stesso passaporto di un uomo così e sei fiero oltre che di intervistarlo di essere un suo concittadino mentre spesso ti vergogni di essere concittadino di tanta altra gentaglia questa è gente che ci riscatta quando Nicola Gratteri parla della voglia di sconfiggere l'andrangheta lui che è un calabrese che ha visto ammazzati a Lupara un compagno di banco quando dice io amo la mia terra e quindi per questo la voglio liberare quando ti dice che va rivisto tutto il sistema legislativo a livello europeo e mondiale perché l'andrangheta questa che lui nel suo libro chiama la mala pianta si è purtroppo impossessata con delle locali di indrangheta di quattro continenti su cinque quando ti dice che i boss in carcere devono lavorare e non poltrire davanti alla tv proprio affinché i giovani vedano che il boss perde e non fa il boss anche in carcere ha delle parole di una chiarezza e di una verticalità tale che se devo sceglierne uno premesso che sono tutti dieci la lode mi permetto di darla a Nicola Gratteri un lavoro davvero importante davvero senza la parola però pesa poco alla fine pesa molto poco perché io ho abituato a scrivere di sport mi sono cimentato anche con altri argomenti governo del territorio arte equitazione basket però la gioia di aver fatto un libro insomma come lo possiamo definire una raccolta intervista una testimonianza civile non pesa affatto perché sei orgoglioso di aver dato voce a questa gente ma soprattutto sapere che questa gente ha visitato Roseto Pineto Giulianova è stata qui da noi in questi territori Silvi la stessa Silvi dove siamo Flavio Tranquillo e l'intervista l'abbiamo fatta proprio qui a TV6 ecco la gioia di aver messo in un libro questo patrimonio che spero tanti giovani vogliano condividere con noi storia ma anche attualità perché non bisogna mai abbassare la guardia l'attenzione e soprattutto la consapevolezza la voglia di conoscere capire e informarsi sì direi attualità mi offri il destro per parlare di un'intervista che fece nel 2009 a Carlo Vulpio Carlo Vulpio viene nel 2009 a Roseto ospitato dal Borsellino Leo lo vuole a presentare il suo secondo libro dopo Robba Nostra che è un libro un po' più difficoltoso La città delle nuvole lui nel 2009 scriveva già in questo libro che come lui poi mi dice l'intervista gli ha stroncato la carriera al Corriere della Sera scrive questo libro sull'Ilva di Taranto diciamo su Taranto non sull'Ilva proprio sul problema di Taranto sul fatto che si muore di cancro sapere che dopo tre anni proprio negli stessi mesi l'Ilva di Taranto è sulla bocca di tutti che ci sono problemi davvero nazionali e tu nel tuo piccolo nella tua agenda territoriale hai fatto questo lavoro di sensibilizzazione per le cento persone che sono venute quella sera e mi ricordo che ci fu un ragazzo di nome Enrico che salì in treno da Taranto perché disse quando ho saputo che questo libro si presentava in Abruzzo sono venuto in Abruzzo da Taranto e che Giuganoi sicuro non lo presenteranno poi magari lo hanno presentato non lo so ma mi rimase impresso e ho messo anche la foto di questo ragazzo che salì da Taranto amico del fotografo abruzzese Stefano Schirato ecco sapere che noi tre anni prima con la sensibilità di Leo con la voglia di tutti noi del premio e di saperne di più abbiamo forse nel nostro piccolo precorso i tempi voluto dare a tutti questo senso di cittadinanza attiva mi riempie d'orgoglio tra gli scomodi per Antonomasia che vi vengono a trovare lo ricordiamo vostri amici Saviano Ruotolo e non da ultimo assolutamente Travaglio ma tant'è vero che c'è anche un capitolo Marco c'è sempre sì il problema di Travaglio è questo è venuto così tante volte che dici cosa facciamo gli dedichiamo le più pagine di tutti l'intervista che occupa più pagine come ti ho detto per mia scelta personale è quella di Nicola Gratteri perché la ritengo ripeto la più forte e impegnata per Marco abbiamo pensato proprio all'ultima pagina speriamo non si arrabbi non per un'intervista ma per un grazie proprio un semplice grazie Marco c'è sempre perché Marco Travaglio insomma in questi ultimi dieci anni credo è stata la persona che più volte ci ha detto sì è venuto a presentare i suoi libri è venuto a fare dibattiti e tu mi insegni che magari se siamo io e te in un posto pubblico a parlare di informazione vengono 30 persone se c'è Travaglio vengono 300 persone e sapere che Marco da Torino insomma è sempre venuto è sempre stato disponibile noi gli dovevamo questo ringraziamento speriamo ripeto gradisca il fatto che c'è stato più un grazie che mettere in fila una delle tante interviste che gli abbiamo fatto diventava quasi banale per lui che è venuto così tante volte quindi lo ringraziamo davvero perché grazie a lui è stato possibile ripeto amplificare moltiplicare l'interesse su alcuni temi importanti mi fa piacere che non avete dimenticato nessuno tra quanti sono vicini non soltanto per convenienza tra virgolette al premio Borsellino e al messaggio di Samarkanda ma la dedica la dedica in finale Paolo Borsellino c'è c'è anche il giudice Falcone e poi ci sono due nomi in più sì ho pensato anche d'accordo con Leo di dedicare questo libro anche a Peppino Impastato e a Pippo Fava perché perché vent'anni di Borsellino vuol dire anche aver avuto la sensibilità di conoscere queste le storie di queste persone vuol dire anche aver avuto il privilegio di conoscere Elena Fava la figlia di Pippo che ci ha parlato portandoci alle lacrime dell'esperienza del padre e quindi questa gente che diceva nei primi anni 80 che la mafia era anche in Parlamento che c'era una mafia delle banche e che per questo è stata assassinata ecco questa gente meritava almeno insomma non è niente un nostro pensiero dal piccolo della provincia però una dedica a questi uomini ripeto di una verticalità oggi difficilmente trovabili quanto poi alle dediche mi permetto anche di dire che c'è una doppia pagina dedicata a tutti e qui prendo in prestito quello che mi dice Ascagno e Celestini gli intellettuali organici e cioè il ragazzo che va a mettere i manifesti l'amico che ti fa le foto gratuitamente perché ovviamente qui ci siamo tutti spesi vent'anni gratuitamente come dici tu convenienza il borsellino nessuna perché c'era sempre da lavorare gratis ma il ragazzo che ti fa le riprese l'amica che ti sta al banchetto e ti dà le targhe abbiamo voluto dedicare la stessa televisione che ti dà spazio quindi abbiamo fatto dei quadratini con delle foto perché questi ragazzi queste ragazze queste donne uomini senza di loro vent'anni di borsellino a costo quasi zero non sarebbe stato possibile farlo e invece ti ringraziamo per aver esaltato la bellezza la bellezza che queste persone hanno cercato sempre di esaltare l'aria fresca pura in contrapposizione di chi vive nell'illegalità in ambienti dove non è assolutamente bello crescere mettiamola così è vero che a Leonodare è venuta la lacrimuccia? beh quando ha visto la scenografia in tipografia si è commosso e ha detto beh insomma questo è un capolavoro io pensavo tu avessi fatto un libro sai c'era poco tempo io adesso lo ringrazio e mi permetto questo autoincensamento in sua assenza ma insomma sì si è commosso e questa è stata se c'è un obiettivo insomma se vuoi privato che volevo nel mio animo era muovere a commozione lui perché ripeto questo libro esiste perché un giorno del 1990 ci siamo incontrati in una fiaccolata antimafia abbiamo fatto amicizia è nata così insomma e poi quando c'è grande entusiasmo è più facile lavorare sviluppare anche delle idee che alla fine sono ecco non un libricino ma qualcosa di serio appena 15 euro sì e poi adesso in questi 15 giorni del premio lo venderemo nelle serate del premio a 10 euro proprio perché ce lo gestiamo noi è una tiratura minima poche centinaia di copie l'abbiamo fatto ripeto per questo quindi è viva che tutti lo prendano speriamo vi piaccia e chi vuole lo può prendere in tutti questi appuntamenti a 10 euro e poi magari andrà anche in libreria ma ripeto è fatto per coccolarcelo un po' più che venderlo porta a porta cerchiamo di venderlo cuore a cuore bene grazie Luca Maggitti per essere stato qui a ZoomIn e ricordati non è il caso di fermarsi a San Marcanto bisogna proseguire grazie a voi dell'ospitalità arrivederci grazie a tutti